Una partita pazzesca, abbiamo con noi Terracciano, vogliamo partire dalla fine? Sì, alla fine... cosa è successo? Una palla tagliata, eravamo tutti dentro perché mancava penso un minuto allo scadere e niente, mi sono buttato a disparata, la palla è arrivata nel momento giusto, nel posto giusto e sono riuscito a girarla bene, quindi siamo andati a esultare sui 4-3 contentissimi Devi offrire una pizza d'astrologo allora? Eh sì, bisogno perché gli ho sempre detto che faceva che avrei fatto questi tagli qua davanti alla partita e finalmente mi ha premiato e non l'ho deluso diciamo No, ti sei spinto in avanti anche nel primo tempo, nel primo tempo non ha funzionato molto quella catena lì non siete riusciti a creare molte occasioni pericolose, poi nel secondo tempo avete fatto una rimonta pazzesca, ma voi ci credevate a fine primo tempo, ci credevate dopo il 3-3 perché a un certo punto sembrava essersi un po' stabilizzata la partita Sì, al fine del primo tempo ci ha parlato il mister, ci ha detto che l'avremmo ribaltata noi ci abbiamo creduto e poi sul 3-3 dopo eravamo tutti avanti le squadre si sono allungate, per questo magari nel primo tempo c'era un po' meno spazi poi con le squadre più lunghe c'erano più spazi, quindi anche a destra in fascia riusciamo ad andare giù meglio e al fine siamo riusciti a vincerla con lunghe e con i denti Senti, c'è qualcuno a cui vuoi dedicare questo gol? Sì, volevo dedicare questo gol al nostro compagno Andrea Gresele che in questi giorni aveva ricevuto finalmente notizie positive, siamo molto contenti di queste notizie e speriamo che possa prima di tutto tornare il più presto a stare bene Ecco, senti, nell'ottica di questa partita poi tu hai preso quel ruolo di terzino che poi era propriamente di Andrea, spesso e volentieri Sì, mi tocca proprio sul personale, sono contento di aver ricoperto il suo ruolo penso in maniera positiva e quindi ho fatto notare il meno possibile la sua mancanza Ecco, senti, ti chiedo, state facendo un percorso, avete perso una partita brutta con il Venezia è persa anche sul finale, anche quella, quindi alla fine questa è una sorta di riscatto questa gara Una sorta di riscatto, qui si deve dare una spinta importante per il campionato e adesso avanti a tutta